Una forte tormenta di neve sta investendo tutto l'alto casertano, in particolare le zone più alte come il Matese, dove la viabilità comincia ad essere disaggevole. Ma anche a quote più basse come a San Gregorio Matese, Castello del Matese e Liberi, addirittura che state appena vedendo nelle immagini girate dal nostro operatore Vincenzo Mezzullo. C'è particolare preoccupazione nella tarda serata e nella notte per il ghiaccio che potrebbe formarsi e allora per il traffico ci sarebbero seri disagi domattina.